La chiesa della Madonna della Pioggia La chiesa della Madonna della Pioggia prende il suo nome dall'immagine, ritenuta a ragione miracolosa, della Madonna che si trova sopra l'altare maggiore e che venne portata in questo edificio nel 1367 quando venne ritrovata miracolosamente intatta fra le macerie di case in rovina durante lo scavo del canale Reno che corre qua a fianco. Il miracolo più importante che la disegnò proprio come Madonna della Pioggia fu quello che fece nel 1561 nell'estate in occasione di una siccità terribile che stava ruinando tutti i raccolti allora venne fatta una grande processione portata in processione lungo le mura della città e in quel caso ricominciò a piovere, piove abbondantemente per molti giorni dopo quindi questo le guadagnò il nome di Madonna della Pioggia. Il santuario aveva anche una vita parallela per un certo periodo perché essendo nato nel 1200 circa come oratorio e anche per punto di sosta per i pellegrini che andavano a Roma venne poi ampliato come ospedale per i poveri e poi in seguito a pestilenze anche che avevano decimato la popolazione anche come orfanatrofio e quindi la Madonna della Pioggia è sempre stata importante per i bolognesi sia come punto di soccorso per i poveri e i bisognosi e poi in seguito aumentò come venerazione di questa sacra immagine. Grazie a tutti. Il santuario della Madonna della Pioggia confluiscono due realtà che si integrano e che si arricchiscono a vicenda. Da una parte la vita del santuario che la Diocese ha affidato alle suori missionari di Cristo Re e la vita liturgica della parrocchia. Perché dico vita liturgica? Perché nel 2012 il terremoto ha reso inagibile la Chiesa in attesa di restauro. Noi siamo perciò molto lieti, il cuore si riempie di gioia per la visita dell'Arcivescovo che viene a presiedere l'Eucarestia per rafforzare la comunione ecclesiale, per insegnarci a riporre nel Signore le nostre speranze e siamo lieti di presentare al nostro Vescovo una realtà di bella collaborazione e di integrazione tra la parrocchia e la comunità religiosa del santuario sempre più centro di preghiera e di spiritualità. La misericordia è la pioggia e ci sono tanti cuori aridi, aridi perché soli. La misericordia non è come dire ti do qualcosa ma io sto da una parte e tu stai dall'altra vuol dire che mangiamo assieme. La misericordia vuol dire dei cuori, due cuori che si sintonizzano. Siamo arrivate dalla Polonia, qui in santuario il nostro servizio si svolge da sette anni. Quello che facciamo in santuario, cerchiamo di tenere la chiesa sempre preparata, pulita e anche, soprattutto quello che è importante, la devozione della Divina Misericordia che si è sviluppata questa devozione da un anno nella maniera molto attiva. In santuario viene tanta gente anche da tutta Italia per pregare insieme dal martedì al sabato. Recitiamo la coroncina della Divina Misericordia alle ore 15, anche davanti a Gesù esposto. Le persone che vengono qui in santuario spesso scrivono le proprie intenzioni tutte insieme. Poi mettiamo davanti all'altare, davanti a Gesù esposto e preghiamo insieme secondo queste intenzioni. Frequentare il santuario mi ha aiutato in alcuni momenti molto difficili a potermi affidare a qualcuno più grande di me a non avere l'impressione di dover prendere io delle decisioni molto difficili e a vedere che affidando i miei problemi al Signore e alla Madonna molte volte questi problemi si risolvevano, si risolvono da soli. Siamo nell'anno della Divina Misericordia e siamo molto contente che proprio questa devozione l'abbiamo trovato anche il suo successo qui in santuario perché da un anno che la vediamo la coroncina anche in tutta l'Italia su TV 2000 che ogni giorno transmette la coroncina tramite questa preghiera che è stata registrata qui in santuario è stato anche conosciuto in tutta Italia e per quello siamo molto contente che le persone possono conoscere il santuario e vengono poi personalmente a vederlo.